Sto cercando il numero uno, il mio marito che ha vinto! Grazie soprattutto ai ciclisti padroni e grazie a loro che si possono organizzare questi eventi, quindi grazie comunque a tutta la gente che partecipa. E ora è la stessa edizione della Gran Fondo, Città, Padova, Cicli, Olimpia, buon viaggio! Città, Padova, Cicli, Olimpia, buon viaggio! Città, Padova, Cicli, Olimpia, buon viaggio! Grazie a tutti!